lotta 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 mannaggia la miseria ecco magna belli e brutti tempo di far la doccia vero che dici lo tank tank e qua su niente da fare questo non si vuole fare la doccia ogni due giorni per lui è già capito e non lo puoi corrompere con niente perché ha già capito guarda vabbè magari dopo si deciderà buongiorno a tutti come state noi non so tanto bene abbiamo passato una notte orribile perché qui hanno l'usanza per chi ha le vacche di sera di si di sera che accendono tipo un fuoco contro contro le moschitos così le vacche possono dormire cazzo però noi no perché c'è una puzza c'è un'aria qui poi che quasi non riesce a respirare la prima volta che che ho notato questo o ieri perché prima diciamo non era così perché siamo qui l'aria aperta cioè canto noi non c'è nessuno deve essere stato qualche vicino che veramente un po esagerato con questa roba e mi sono un po informato anche su internet se veramente c'è bisogno perché qui hanno questa usanza questa cultura di fare fuochi fuoco per ogni cagata non conoscono nient'altro e allora perché mi sono chiesto ma cavolo anche in italia lì abbiamo delle vacche delle mucche non non è che facciamo fuoco ogni giorno solo per abbattere il mosquito e mi sono un po appunto informato su su internet e mo stasera se becchiamo quel cretino che non posso dire altro che fa questa vediamo cosa li farò ma comunque è una cosa ma in questo questo sanse comunque è tutta atalandia cioè qui ancora ancora diciamo discretamente capita ogni tanto ma veramente raramente ma in certe zone c'è mai chan rai che lì qua tre quattro mesi cinque sei mesi attitudine all'anno è proprio solo così infatti tanti fa lana all'inizio quando hanno comprato la casa quanto non c'è questo periodo di pioggia vedono una bella zona e comprono la casa lì poi si accorgono che appunto sei mesi dall'anno questa casa non la puoi abitare perché è invivibile con quest'area e sono costretti a venderla a metà prezzo alla fine ecco noi siamo un pochino più fortunati in quel senso che se possiamo viaggiare cioè se veramente ora dovrebbe espandere questa cosa qui diciamo che 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 iniziano fare ora questo di brutto perché qui copie uno all'altro noi possiamo sempre viaggiare possiamo andare in svizzera in italia possiamo girare un po finché il periodo di pioggia diciamo passato perché questo succede solo nel periodo di pioggia nell'estate chiaramente non lo fanno chiaramente non lo fanno in estate ecco punto e basta andiamo a vedere se questo vieni qua questo è furbo di tico furbo anche lui stanotte ha fatto lupo perché si vede che c'era qui ogni tanto di notte la gente viene a pescare però si vede che non puoi non puoi celui di follo non puoi non lo fanno noi vieni qua dai vieni qua dai vieni 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 int purtroppo ha un po di sangue siciliano questo cane perciò ecco niente doccia allora poi facciamo un altro giro guarda faccio un po vedere tanto tempo che non hai visto più la casa anche se non è niente di cambiato diciamo tranne questi che abbiamo preso per lotta il tavolino un po di casino perché non abbiamo tanto tempo noi ormai fra un paio di giorni si riparte per la svizzera che ho sentito comunque che ha fatto bel tempo però ci sono un po di casino in giro in svizzera come tutto in europa alla fine ho visto un video dove un nel parlamento c'era un francese che ha diciamo ha reclamato alla von der Leyen von der Leyen la bellissima signora che fa solo il tuo bene ha detto che che questa europa lui non si può più identificare come tanti altri chiaramente e se dico tanto sono tanti ora ti dico anche il numero di quante persone non si possono identificare più con questa europa ha detto che la povertà negli ultimi dieci anni in europa è salita dal 46 per cento 100 milioni di persone in europa rischiano la povertà assoluta la povertà assoluta che non hanno neanche più soldi per mangiare e abitare non ne parliamo neanche di parlare la bolletta dell'elettricità comunque 100 milioni ed è un numero abbastanza spaventoso cioè la ricca europa cioè loro dicono che sono ricchi che che ogni anno aumenta le spese per per militari per le armi per far guerra per distruggere distruggere il popolo distruggerlo completamente anche con le loro manovre politiche questa questa è diciamo appunto 100 milioni di persone già non si possono più identificare con un europa così figuriamoci in fra un paio di anni perché questa povertà aumenta non gradualmente ma diciamo esploderà nei prossimi cinque anni perché appunto ormai fra quello che hanno combinato nel periodo di pandemia i crediti fasulli che hanno distribuiti con la menzogna che erano a fondo i partuti poi invece devono pagare indietro ugualmente con interessi vengono richiesti addirittura quando fa un minimo di guadagno di pagare tutta la somma indietro e via vai insomma ce ne sono un paio di motivi perché questa europa che abbiamo oggi è sulla via della distruzione totale dei loro popoli dei loro popoli in europa una cosa che io comunque ho visto qui a si sa che che mi sono sempre io mi sono sempre curioso quando vedo sai ragazzo giovane magari con una moglie tailandese e dei figli giovane parlo di 30 anni qui a si sa che mi chiedo sempre ma che cazzo fa qui a si sa che questo qua e ne vede un paio allora per me ci sarebbe una risposta che questi qua hanno proprio il naso pieno di questa europa e scappano in un paese dove possono avere una vita migliore una qualità di vita migliore ma questo non significa lusso e chissà cosa una qualità di vita migliore ecco questo è perché alla fine alla fine ci dobbiamo anche ricordare una cosa noi tutti un giorno non ci saremo più in questo corto periodo che ci ha permesso di vivere in questa terra in questo mondo io ancora oggi come tanti altri milioni milioni e milioni non riusciamo a capire il loro modo di pensare e come mai hanno tanta voglia di distruggere il popolo fare guerra mettere diciamo zanzerie politiche in tutte le parti provocare ammazzare fare fuori zittarli politicamente anche tutte queste manovre inspiegabili la cosa che ho imparato da questi politici è come corrompere la gente o diciamo i cani lotta dai dai latte latte a lui piace tanto latte anche questo mai visto un cane che piace latte vabbè un po strano questo è andiamo dove io sono sicuro che questo è scappato ma lontano lontano chilometri già si sarà mosso un po' un disgraziato sto cane lotta tanta vieni qua fatti vedere allora lui non era quello del fuoco ma credo che è stato lui perché lui è il nostro cugino con lui si può parlare tranquillamente l'abbiamo chiesto ha detto che lui alle 8 aveva già spento il fuoco perciò deve essere lui perché se dopo andiamo a parlare ma una puzza una cosa insopportabile poi una cosa che in logica anche come poi fare tu un fuoco ok vicino delle mucche vacche e pensare che li fa anche bene a queste c'è tutta questa aria io non so cosa cosa come faccio vedere intanto ormai la casa ha fatto oltre un anno ed è ancora qui non ci sono problemi non ci sono problemi e già questo è buono diciamo un buon segno poi piano piano delle piccolezza sicuramente nasceranno qui a mia moglie no non 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 I think he run far away from us ma se no si sta molto bene qui se non sarebbe questo fatto di questi fuochi che li piacciono fare qui sembrano delle streghe va bene allora ragazzi da si sa che è tutto vi lascio noi ci vediamo nel prossimo video sempre positivi e ciao